Buongiorno a tutti, sono Luigi Naracco, se per finire benvenuti a questo nuovo video che in molti mi state chiedendo e che finalmente ho un attimo il tempo di fare, dato che per 2-3 giorni sia nel Global che nel Jap non ci saranno novità rilevanti. Poi inizierà la carrellata assurda di novità nel Jap, come al solito, ma c'è tempo. Quel video è, vedete un Kid Buu, quindi forse alcuni di voi l'avranno già capito, no in realtà l'avrete capito tutti perché c'è il titolo del video, ora che ci penso, ma particolari. Comunque che video è, dicevamo, è la top mia, top 10 personale maggio 2016 delle 10 carti migliori del Global. Naturalmente, calcolate questo, questa sarà probabilmente l'unica top 10 del Global che farò, perché ad andare avanti nel tempo le top 10 Jap diventeranno top 10 Global. Però è interessante vedere nel meta pre-Gogeta come sono inserite le varie carte, quali sono quelle migliori, quelle peggiori. Mi ricordo che è unicamente secondo me, magari voi la pensate diversamente, questo è soltanto un mio pensiero, non deve, non è il pensiero assoluto. Comunque iniziamo a vedere ogni carta e diciamo come è in questa posizione. Ho inserito quasi tutte le LR attualmente disponibili, mancano le LR che usciranno nella prossima batch pre-Gogeta, ma nessuna a mio avviso entra nella top 10. Manca Wisa GL che anch'esso non entra nella top 10 e mancano due LR che ho scelto in un meta perché secondo me è abbastanza scarse. Iniziamo a vedere con la decima posizione. In decima posizione, ah sì, naturalmente non serve dirlo, ha molte similitudini con la top 10 Jap, tranne una carta che è nella top 10 Jap ma non è nella top 10 Global. E vi lascio scoprire a voi il perché, c'è una motivazione, però è molto particolare. Comunque iniziamo, dicevo, dalla decima posizione, Kid Buu LRGL. PG che finché non esce un altro simile per me rimarrà sempre nella top 10, grandissimo PG. Ne ho parlato, riparlato e parlato ancora, ormai penso che sapete vita, morte e miracoli di questo PG, no? Cosa si può dire ancora su di lui? Direi nulla alla fin fine. È un grandissimo PG che vi aumenta in una maniera anormale gli HP, vi permette di fare giochi assurdi con team che non dovrebbero riuscire a tankare così tanto. Se vedete il team zombie o vedete i miei video su Heroes vs Hells, parte 1, la versione evoluta, no, parte 2, la versione evoluta, vedete che riesce a tankare l'intankabile, un team con due di lui. Un grandissimo PG che rimane sempre in utile posizione a classe, perché comunque non è chissà cosa, ma riesce a dire la sua quando vuole. Davvero ottimo PG, consigliato chi ce l'ha di tenerselo bello stretto, sarà molto utile in alcuni eventi futuri e soprattutto nel 40 stamina di Gohan può essere un ottimo leader per rendere la battaglia quasi sicuramente vinta, anche se è molto lunga. Grande PG che si merita ancora la decima posizione anche in questa classifica. Passiamo in ottava con Gohan Super Saiyan 2. Gohan Super Saiyan 2, come sapete, ah no, ho detto una cavata, ci sono due carte che ci sono nella JAP e non nel Global, una delle quali è l'Ultimate Gohan. Ultimate Gohan con l'uscita di questo Gohan e la futura uscita di Goten Super Saiyan perderà la maggior parte della sua vera utilità, purtroppo. Camperando in un PG che comunque rimane giocabile, il Gohan non è malaccio, però finché non diventerà LR verrà surclassato da altri PG. Questo Gohan naturalmente è il miglior Super Saiyan fisico del gioco nel Global, non potevo non aggiungerlo, ottimo leader Q2, se non il miglior leader Q2 a parimerito con Gotenks, Anche se Gotenks vanta link migliori, secondo me. Cos'altro si può dire di questo PG? È capace di fare un pochino tutto, attaccare, far danno, vi ricordo che ha dei link skill assurdi, è un supporter ottimo per tutto il gruppo, può davvero dire la sua e rendervi più facile, più di un evento. Naturalmente è consigliato da utilizzare ogni volta che riuscite, in modo da permettervi un aumento abbastanza elevato sia dell'attacco che del key meter. Team con doppio di lui non è affatto male, perché garantisce al 100% praticamente di avere un bonus di 4000 attacco a tutti quanti, anche se difficilmente allo stesso turno. Non è da sottovalutare, grandissimo PG che si becca la nuova posizione. Prima è l'R messa in ottava posizione, nonostante penso molti di voi non saranno d'accordo, ve lo dico subito, e ci sta naturalmente come ho già detto, che ci siano persone non d'accordo, queste non sono regole, questa non è la classifica che deve andare bene a tutti, abbiamo SEL. Allora, perché metti in ottava posizione un PG che fa oltre un milione di danni? Stesso motivo per cui nel JAP proprio non si vede neanche questo PG. Nel Global si vede perché mancano altri PG utili. Calcolate che ormai SEL nella classifica non ci entrerà più nel JAP, in quanto è uscita una carta gratuita che fa più o meno gli stessi danni di un SEL con SA4. Comunque nel Global si merita ancora una posizione per un po', dato che comunque è il miglior leader verde del gioco, e questo bisogna dargliene atto. Miglior leader verde del gioco, capacità di danni altissima, purtroppo è molto bloccato nella sua routine di prendere ki, soprattutto verdi. Benché possa potenziarsi con i ki di qualsiasi colore, mi sicuro il modo migliore per utilizzarlo è con il leader Goku, Super Saiyan, Super Saiyan Tech. In altri mazzi può arrivare a far danni buoni. Io lo utilizzo spesso in combinazione con il carissimo SEL AGL e devo dire che non fa schifo in una combinazione simile, però ci sono combinazioni anche migliori che si possono fare. Non è proprio la combinazione della vita, se così possiamo dire. C'è di meglio, bisogna saperlo un attimo usare, benché sia uno di quei più caffoni, tra virgolette, che picchino, 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 rischiate che nel volerlo troppo usare, vi blocchiate in una routine in cui non lo usate al meglio. Comunque ho una posizione meritatissima per una carta che nonostante non entrerà nella top 10, più sarà sempre un punto di riferimento per i boss AGL fino all'uscita di Goku GT. In quel momento diventerà la preferita contro i boss, ma anche chi non ce l'ha non soffrirà eccessivamente. Andiamo in settima posizione, abbiamo Veget. Abbiamo Veget. È stato difficile dare una posizione a questa carta, in quanto è molto particolare come PG, ho dovuto guardare dei video di gente che la utilizzava per capire davvero la sua utilità, quant'era. E devo dire che è una carta forte, non forte normale, ma forte forte. La sua caratteristica è quella di essere attualmente, penso probabilmente anche nel JAP, il miglior buffer del gioco. Stiamo parlando di un PG che in un team è fatto bene, pompa del 50%, l'attacco di tutti quanti... No, scusate, del 45% l'attacco di tutti, non è poco, non è poco. È davvero capace di fare cose dell'altro mondo, diciamo. Ha alcune limitazioni che attualmente sono dovute soprattutto ai suoi link, che sono buoni, però c'è di meglio. Con l'arrivo di Gogeta diventeranno link fantastici, ve lo dico subito, quindi non preoccupatevi troppo se lo avete e sentite questo video. Attualmente nel Global sono link ancora che non vengono molto utilizzati bene, anche se stiamo iniziando a uscire molte per Prepare for Battle. Da Gogeta in poi il Prepare for Battle sarà il secondo posto tra i link migliori dopo venire a Flash, in quanto saranno molti i PG molto forti ad averlo. Carta quindi buonissima, buffer come ho detto devastante, in ultimo Gogeta sarà una bomba assurda che farà superare anche i 400.000 danni a un Gogeta con S.A.10. Si merita la settima posizione, senza alcun dubbio. Altra carta, appena uscita, che entra prevalentemente a metà classifica praticamente. In sesta posizione abbiamo il nuovo Goku Super Saiyan Forza. Carta che anche essa come S.A.L. uscirà molto presto dalla top, ma finché non esce Gogeta almeno, siamo davanti al PG con danno singolo, forza, più forte del gioco. Dovrebbe fare più o meno a parità di S.A., lo controllerò anche, danni abbastanza ampi, superiori a Broly. Poi dipende sempre, vi ricordo, dal team in cui lo usate. Ci sono team in cui naturalmente Broly farà più danno, team in cui lui lo surclasserà totalmente. Ho già fatto molti video riguardo a questo PG, un versus video di analisi, quindi non mi dilungherò troppo. Vi ricordo solo che è un cannone vivente, fa parecchi danni. Unico vero ne è una leader skill alquanto penosa che condivide con quello proprio di S.A.L.I.N.T. Però non è male, può essere utilizzato in molti modi. Di sicuro in un team rosso è uno dei PG principali che verrà sempre utilizzato. Si becca quindi il suo posto in classifica senza problemi, a metà. Sempre a metà classifica, a quinta posizione, abbiamo Gotenks. Ce l'hanno fatto sudare, ma alla fine è arrivato. Cosa si può dire di questo PG? Grandissimo PG, uno dei migliori, in alcune classifiche in giro è messo al secondo posto. Io non reputo che attualmente si possa inserire così in alto. Appena uscito nel JAP, quando uscì, il secondo posto era meritatissimo, ma che a volte uscì prima di Golden Freezer. Quindi, vi fa capire quanto tempo abbiamo dovuto aspettare. Dicevo, grandissimo PG, miglior chi più due leader del gioco attualmente. Non mi preme bene, mi mostro anche passive e altro. Come potete vedere è un cannone anche lui, capace di fare il milione di danni insieme a Golden Freezer, ma non è bloccato soltanto nella routine di Cell. La routine di Cell, scusate, cosa aveva come problema? Ha il problema che comunque lui è un leader bloccato a certi tipi. È meno utilizzabile, secondo me, di questo Gotenks. Questo Gotenks ha anche il link molto meglio. Abbiamo Fuse Fighter e Shocking Speed, che con l'arrivo di Gogeta saranno... Oddio, no, Shocking Speed no. Profile Fighter vi garantisce abbastanza chi anche a Gogeta. Shocking Speed, d'altro canto, gli permette l'utilizzo in team abbastanza interessanti, quali un Mystic Gohan, un Gohan, i vari Goku God, i simili. Sono un po' raffreddato, pare. Comunque, rimanendo in quello che dicevamo, carta senza dubbio tra le migliori del gioco, ha perso utilità in quanto è uscita troppo tardi, secondo me, doveva uscire al momento giusto per essere davvero, davvero forte. Può comunque servire come cannone contro Gogeta. È una carta senza infamie e con molte lodi, diciamo. Saliamo ora al quarto posto. Penso che molti di voi avranno già capito quali sono le carte, però andiamo a vederle insieme. Terzo posto, assolutamente il nuovo Goku Super Saiyan 3. Rimane in posizione anche nella JAP, calando però parecchio, ma finché non ci sono leader chi più tre o altro, di sicuro è una delle carte migliori del gioco. Sono stato combattuto se metterla un pochino più in alto in classifica al terzo posto, ma poi mi sono fatto due calcoli e la sua utilità la ottiene in determinati casi. Mentre la carta che metto è al terzo posto, che penso abbiate capito ormai qual è, tanto che non si è ancora vista, ha molta più utilità in molti più casi. Comunque, perché questa carta è al quarto posto? PG devastante, capito di fare un quantitivo di danno assurdo grazie alla passiva, miglior leader AGL del gioco ancora oggi in JAP, scusate, in quanto è l'unica LR AGL pura uscita. Poco da dire, miglior AGL da mettere in Team Gogeta, lo preferisco di sicuro anche a God Goku AGL, in quanto di solito si tende a mettere il God Goku forza. Nient'altro, un cannone. Spara botte da orbi, lui da solo può obliterare un Gogeta. consigliatissimo, tenetevelo stretto se l'avete trovato, cercate di portarlo nella forma che vedete qua. Abbiamo visto che non è facilissimo, ma non è neanche impossibile. Ora, per la felicità del mio amico Adriano, possiamo vedere la terza posizione, che ora si stanno tutte caricando, ok? Per la sua felicità, Golden Freezer AGL, carta che rimarrà sempre in classifica attualmente, secondo me. Nel Giap è stata superata, nel Giap è stata superata, è stata creata una carta migliore di Golden Freezer AGL, ovvero Vegeta, Super Saiyan 3, Forza LR, poi migliore. Dipende molto da come la usate, in quali battaglie la usate, però globalmente è meglio Vegeta. Nel Global però abbiamo un Freezer con incontro, coglioni, miglior tank del gioco. Janemba è una pippe in confronto, lo sapete, ne ho parlato nel video, della classifica Giappa anche. Cosa si può dire di questa carta? Carta che rende molte battaglie uno scherzo, riduce i danni in una maniera incredibile, vi richiede solo attenzione, attenzione di utilizzarla nel momento giusto, attenzione nel non fare cose rischiose, in quanto comunque dovete avere più di 50% di HP, per chi si attivi. E gli chiede un attimo di giocare con la testa, diciamo. Non è una carta per neofiti del gioco, non è una carta che dove metti, metti, fa il suo lavoro, va messa bene, strutturata, ma dà grandissime soddisfazioni. Attualmente, io nel mio account JAP, di tutte le carte uscite, è l'unica che davvero vorrei, per completare il team Gogeta, in quanto che non linka nulla, Amen è un tank mostruoso, che mi darebbe vittoria facile, in alcuni stage, in cui anche con il team completo Gogeta, rimane un attimo lì, a dover utilizzare molti oggetti. Si becca meritatamente il suo terzo posto, calerà pochissimo in classifica, ma adesso nella propria classifica JAP, che farò penso dopo il mezzo anniversario, che dovrebbe uscire in questo mese, mese prossimo, potrebbe calare parecchio, e andare a pari merito con Vegeta, in una posizione quinta, sesta. Però, per adesso, teniamo duro. La seconda posizione è la stessa del JAP, è la stessa del JAP, è il nostro caro Broly, è poco da dire, a prescindere si becca sta posizione, ci si lava le mani, esaterà per sempre attualmente, poi andranno a pari merito, al massimo. Nel JAP, forse Broly è uscito dalla classifica, per far posto a Magi in Vegeta, che è reputo meglio in tutto, anche se causa qualche danno in meno, però, e sono tutte questioni da studiarsi un attimino. sono entrambi i PG con la special, uguale però. Comunque, tornato nel global, PG, Dio, da solo vi regalerà, non si sa quante SSR, grazie al torneo. Chi ce l'ha, bene, chi non ce l'ha, e vuole rerollare, semmai voi dovete rerollare, rerollate per lui. Ancora più di Gogeta, forse Broly è una carta importante, perché ok, in Gogeta vi permette di fare gli eventi, Bambroly è una macina SSR, come non mai. Quindi, se dovete rerollare, rerollate per lui o per Gogeta. E non sacrificate a carta troppo grossi, e comunque c'è anche Magi in Vegeta, che avrà lo stesso effetto, ricordatevelo. E mentre il mio coniglio sulla lettiere, mi guarda con una faccia inquietante, andiamo a prima posizione. Prima posizione di una carta, che uscirà direttamente dalla classifica, con l'arrivo di Gogeta, praticamente. Purtroppo, una prima posizione che si terrà per poco tempo, ma quel poco tempo ce la farà ricordare di sicuro. Parlo di Goku God Forza. Poco da dire. Siamo davanti all'inker migliore del gioco. Forse avrei dovuto dargli una posizione in classifica nel Jap, ma non avrei saputo cosa togliere, e non volevo fare troppe posizioni a pari merito come quella in terza. però se è di fronte a una carta sbagliata nei link. Davvero. Ancora più dei danni che può fare o altro su nei link è la cosa assurda. Abbiamo la bellezza dei tre link migliori del gioco, avere la flash, preferable battle e shock in speed, che è solo un qualcosa di assurdo. Può linkare più o meno con qualsiasi PG decente del gioco, salvo rari casi, tipo Cell, e causare un questo di danni assurdo. Attualmente lo metto in prima posizione perché, diciamo, se lo avete il team dovrà girare su di lui. Scusate. Deve creare un team su di lui, che linki bene con lui, che vi permetta di fare il lavoro. Quindi lui è la base di tutti i team attuali. Qui sta di Gogeta, lui perderà questo parte, uscirà dalla classifica in quanto diventerà semplicemente il miglior supporter del gioco, non più la carta migliore. Comunque, chi di voi l'ha trovato sotto il gastretto, io dopo l'ultimo torneo ho avuto l'opportunità di avervi in entrambi gli account, quindi non mi lamento. Carta fortissima, che spero un giorno veda la luce com'è l'R, ci starebbe un Goku God l'R. Speriamo, speriamo. Scusate. Detto questo, il video finisce qua. Non so se lo pubblico sul gruppo, vedo, magari la gente è interessata, però questo genere di video si può dare per la pubblicazione sul canale, quindi se siete venuti qua dal gruppo o non siete ancora iscritti, iscrivetevi perché appariranno vari video che non pubblico nei gruppi, questi delle classifiche, gli approfondimenti e altro appena sono sul canale. Vi auguro quindi una buona giornata, iscrivetevi, mettete mi piace, condividete e discutete soprattutto, e alla prossima!